Ma che ho? Porco Dio Mi pare che sia meglio fare la posta La Bibbia, ormai ogni giorno Per i testi che posso affrontare Io lo faccio ogni giorno E aspettavo per i giorni gloriati Sei la forma, la verità e la luce La solo modo per essere rilassato Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ma bisogna essere dei ristronzi però Grazie a tutti Grazie a tutti